non è ancora il momento del match ball ma certo se una squadra riuscirà in questo caso la Serbia a portarsi su più due qualche cosa capiremo come ipoteca finale di questa vittoria Savic palla al centro buttata un po' nel mezzo e che cosa ha fatto? che cosa ha fatto Boris Lokovic? che cosa ha fatto? guarda bellissima Fabrizio perché io pensavo che fosse persa fosse persa la palla invece lui tu pensavi tutti invece è riuscito ad arrivare ma guarda è un giocatore veramente fantastico in questo è tre centropoli qui l'ha già recuperata mamma mia massimo vantaggio per la squadra che su sette gol ne ha realizzati sei ripeto sei a uomini pari in una finale mondiale e ora che si inventa Chemeni con l'Ungheria chemeni con l'Ungheria chemeni con l'Ungheria